Sì, aggiungo anche di chi proprio in Libia sta facendo affari con questo esodo sconfinato per cui miliziani, non miliziani o comunque sia sicuramente criminali che stanno utilizzando al meglio per loro conto, diciamo, per fare soldi e per sfruttare queste persone che non tutte partono perché magari da stati coinvolti da guerre ma anche per altri motivi e c'è chi sta sfruttando queste persone. Io dico una cosa, condivido l'analisi che ha fatto Malan prima, cioè il male della Libia purtroppo è un male che arriva da lontano scelte errate fatte da lontano. A me l'unica cosa che dispiace è che il governo Renzi purtroppo ha dimostrato nei confronti della Libia e delle problematiche che in Libia ci sono sia verso l'Unione Europea che verso anche l'America un atteggiamento sempre molto, diciamo, che oscillava. Prima interveniamo mandando uomini, poi non interveniamo. Di fatto ha perso molta credibilità internazionale in questo senso e quindi oggi l'Italia gioca un ruolo di secondo piano quando invece purtroppo per risolvere anche tutte le cause che a noi ci arrivano da questo clima di totale instabilità politica in Libia ovviamente si riversano sull'Italia, primo fra tutti questo flusso importante, questo esodo, diciamo, di immigrati e non solo. Quindi in tal senso quello che io auspico è che finalmente Renzi venga in Parlamento, si faccia una discussione seria sulla vicenda libica e si decida in Parlamento quali sono le misure da attuare per aiutare da una parte il popolo libico ma soprattutto per evitare all'Italia di pagarne solo le conseguenze. Grazie! Grazie!